Mi faccio dire molto direttamente, secondo me c'è un eccesso di paura, di podenza, di timidezza. Come gruppo dirigente non siamo stati all'altezza nell'immediato post-voto della conduzione di un'opzione di rilancio forte, immediato, della nostra parte politica. Perché abbiamo utilizzato una discussione dicendo non facciamo l'ennesimo concorso di bellezza, le primarie non sono solo per il leader, ma non prendiamoci in giro. Sempre le primarie sono a fianco di un progetto politico. Veltroni aveva il partito liquido, Bersani aveva il partito organizzato, Matteo aveva la rottamazione, ma non erano solo parole, erano idee attorno alle quali dare forma alla proposta politica. Oggi si dice, no, le primarie sono un concorso di bellezza, rivediamo tutto il percorso. Perché? Perché il gruppo dirigente così governa con prudenza, a piccoli passi, la marcia di avvicinamento, sia mai che ci fossero le politiche anticipate, sia mai che ci fossero le europee che ci saranno. Ma così noi, l'orticello, non arrivano i cinghiali, ma è sempre più stretto, eh? E cresce sempre meno roba. Io sono molto contento del segnale che è stato oggi. Viva il ritorno fisico nelle periferie. Oh, ma bisogna andare nelle periferie, fare la rivoluzione, farsi mettere in discussione e lasciare spazio e chiedere ai giovani che sono nelle associazioni dell'ambientalismo e dell'impegno civico di venire dentro e occuparci, fino a cambiarci connotati fisici. Occupate nei sedi del PD. Ma il cavolo, ma di quello stiamo parlando? Non basta il segnale, che è fondamentale, e che dice il PD, se mai si fosse allontanato, che si è allontanato, torna in prossimità. Colgo il sorriso del direttore.